messaggio della regina della pace a maria di međugorje 25 maggio 2021 cari figli vi guardo e vi invito ritornate a dio perché lui è amore e per amore ha mandato me a voi per guidarvi sulla via della conversione lasciate il peccato e il male decidetevi per la santità e la gioia regnerà e voi sarete le mie mani tese in questo mondo perso desidero che siate preghiera e speranza per coloro che non hanno conosciuto il dio d'amore grazie perché avete risposto alla mia chiamata grazie a tutti a grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti